Luce d'ombre tra nuove norme e vecchia giurisprudenza, il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'Amianto è stato l'argomento trattato ieri nel corso della conferenza promossa dall'Ona, l'Osservatorio Nazionale Amianto che si svolta nei locali dell'ex tribunale in Viale Mediterraneo a Gela. Durante l'incontro si è fatto il punto sull'andamento delle diverse iniziative giudiziarie in riferimento al rischio Amianto a Gela anche in merito alle recenti modifiche legislative. Come Osservatorio Nazionale Amianto abbiamo ottenuto un significativo risultato con l'approvazione del comma 250 dell'ultima legge finanziaria per il 2017 che ha stabilito il pensionamento immediato per coloro ai quali viene riconosciuta quale malattia professionale, l'asbestosi, il tumore polmonare e il mesotelioma. Però c'è ancora molto da fare, innanzitutto per quanto riguarda Gela la bonifica, il rilancio delle attività imprenditoriali e industriali, il ristabilimento delle condizioni ambientali e di occupazione lavorativa dei numerosi cittadini e il riconoscimento equanime dei, come dicevo, dei benefici contributivi ai fini del prevenzionamento e delle prestazioni previdenziali. Noi sappiamo che l'amianto è in giro in tutte le strutture, scuole, ospedali, caserme, ovunque e qualunque tipo di struttura sia stata fatta prima del 92 e contiene lastroni di amianto cemento. Propriamente anche qui, dove la gente mette un chiodo per appendere un quadro e da lì possono uscire le fibre di amianto che lo colpiscono e lo uccidono. Lui e chi ci sta attorno, compresi i bambini, quindi è una cosa vergognosa che non si guarda a tutto questo, sapendo che risparmiamo vita umana e risparmiamo anche soldi, perché ovviamente quando uno è colpito dall'amianto è morto, ma prima che muore, ospedalizzazione, cure, interventi, mancanza di lavoro nel posto di lavoro, perché c'è uno che può andare a lavorare se è malato, se ha problemi. Tutto questo si mette al primo posto rispetto a tutte le saghe di ricotta e di sasizza che fanno in Sicilia anziché spendere i soldi per le cose serie come questo. Vogliamo lanciare un messaggio di attenzione nei confronti di un territorio che come tutti sappiamo ha subito negli ultimi periodi tante ingiustizie e speriamo di sollecitare il legislatore regionale e nazionale perché per quello che riguarda soprattutto le patologie asbesto correlate ci sia un'attenzione verso quei lavoratori che sono stati colpiti da queste patologie e quindi possano ottenere in tempi rapidi tutte le agevolazioni che le normative e la legge attualmente consente.